Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A largo comando Lewis che ha in scia Cabiria Caos, veloce dalla seconda fila mentre inizia la progressione Casanova B che è dall'ultima posizione. A gira diversi concorrenti e punta sui primi. Ritmo che si mantiene svelto, 43 a 7 i 600. Camelia Jet in controllo. Azzardete la segue in seconda posizione, poi comando Lewis con in terza ruota proprio Casanova B. Andiamo a cercare Bravo Di Ruggi che è in quarta pariglia. Si arriva al chilometro. Camelia Jet lo ultima in 1'13 e 3. Richiesta da Elena Villani con comando Lewis che persevera ai suoi fianchi, poi un po' tutti a guide lente. Ultima frazione in 13 e 9. 1'27 e 2'3 quarti di miglio. Comando Lewis ha dato una stoccata di fronte a Camelia Jet che ha risposto all'avversario. Ingresso in retta d'arrivo. Camelia Jet allunga o prova ad allungare perché comando Lewis è incisivo ai suoi fianchi. Comando Lewis, terza ruota ancora Casanova dopo percorso estremamente oneroso. Ma è comando Lewis a vincere. Secondo posto per Casanova B e solo terzo per Camelia Jet. Esito sorprendente. Comando Lewis è rientrato bene ma ha un percorso del genere veramente super. A media di 1'12 e 7. Dominio assoluto di Michele Immobile che vince anche la seconda prova. Fa un rientro super da Circoletto, Rosso, Arcobaleno, Casanova B alla prima uscita. Per Lucio Becchetti in salchi c'era Luigi Farina. Al terzo il 5 Camelia Jet. E' tutto da Ignano per quanto concerne la seconda corsa. Linea lo studio.